Vestiti in fretta perché ho voglia di far festa, sai non importa il trucco e la bellezza in testa, abbiamo visto il cielo piangerci addosso, perciò vogliamo ora di il sole nostro, voglio fare la musica che mi ricorda l'Africa, la musica che mi ricorda il suo amico. una scuola che ha una grande sensazione di Cercassi, c'è dei costruttori in Pene, con del provocanzi, insomma, attivi sia a Pisignano che sia a San D'Austria. Nei paesi circostanti si sta lavorando per cercare di fare del progetto con la Pisignano, un'intera cultura per la Tennis, ci sono stati dei contatti con i paesi con i Fruzzi, la Sala Amare, ci sono anche importanti, ci sono comunque dei progetti che stanno andando avanti. Ecco, Presidente, se ci può farlo scusa nella situazione, perché intanto vogliamo fare un esempio, che quando è stato fatto anche a Vene, abbiamo fatto capire come un progetto può per Pisignano sia da anche loro, anche su tutto il nostro territorio di Cercassi. Allora, per quanto riguarda i centri di Cercassi, poi parleremo magari del progetto futuro, adesso parliamo un pochino di quello che abbiamo fatto di nuovo l'anno scorso, noi siamo una diligenza, quindi siamo una famiglia, siamo in tanti, non so, perché il mio corpo di tutto non ce la farei sicuramente, di questo la vostra mano ce l'ha data la signora dell'anno scorso, perché il mio corpo è stato fatto di nuovo. All'anno scorso. All'anno scorso. Soprattutto. Grazie. 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 Per quanto riguarda i genitori, per questo motivo il Presidente mi ha potuto coinvolgere in questa nuova iniziativa, l'esperienza per me. L'anno scorso abbiamo preso di avere risultati con l'apertura di un centro all'interno, di cui si sono occupati i ragazzi all'interno della compagine sportiva, con dei buonissimi risultati. Si è dedicato anche lì in un bellissimo gruppo, un grande affiatamento tra gli allenatori, gli ragazzi e le famiglie. Adesso si sta affrontando di aprire un nuovo centro ad Acri, solo visto che c'è parte di un prevenito che vi spiegherà in maniera più sbagliata il Presidente. Niente, la parvenia è tutta la disponibilità possibile e immaginabile, io sono sempre affettosamente, non sta, non so, principalmente da voi, disponibile per qualsiasi cosa, ma normalmente che la chiedete, quello che vi piace, o qualunque tipo di problematica, di pensiero passeggero, qualunque, soprattutto che afferisce, o qualunque cosa, non tenetevelo per voi, questo ve lo chiede proprio in spazio natamente, non fuori aperto, e se vedete i dirigenti, siamo qui presenti, qualunque cosa potete contare subito a 360 gradi, che sia un problema in mente della società, che sia anche un problema, se lo volete compilare personale, tra i problemi di studio, qualunque cosa, se ne siamo presenti, sia una cosa completa di sostituzione. Basta solo interrompire, un qualcosa di vostro scambio. Di nuovo, tanti cari auguri a tutti, un grossissimo gruppo, mi auguro che quest'anno non possiamo raggiungere tessi e tessi ancora maggiori, a cui è venuta la cosa che l'abbia, l'abbiamo sforzata la stas corso, chi sa, basta solo con di buona volontà, quello non ho fatto da parte vostra. Niente, augurati a tutti, a tutti, a tutti i dirigenti, a tutte le vostre famiglie e a tutti i quali. È un grossissimo gruppo. Grazie. 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 Scusate, l'ultima parte del sedice dei Cassi, se comunque è qualcosa che la donna di Bisignano ci sarebbe molto tardissimo. Abbiamo detto prima che è una squadra che comunque è la donna di Bisignano per fatto di guardare gli atleti essenti. I per un male per gli allenatori, consideriamo che tra le ragioni della prima squadra di Bisignano nasce nel volo di Bisignano. Gli allenatori dei centri Cassi sono di Bisignano, un applauso fa fatto per i risultati della stessa stagione. Andrì, l'ultima di Abostino che comunque è il secondo ragazzo della stessa stagione. Amore, il segno del Francesco. E' un amore esposto che quest'anno ha scelto l'arrivo di Dio, giustamente, perché sono il nostro. Voglio una musica che mi ricorda l'Africa, all'improvviso tutto il mondo cambia pagina. Innamorarsi con la luna nel mare, partire e tornare. Senza sapere quando, andata senza ritorno. Ti seguire fino in capo al mondo, all'ultimo secondo. Volerei da te. Da Milano fino a Hong Kong, passando per Londra. Da Roma fino a Bangkok, cercando te. Staccato il tuo lavoro almeno per un po', la vita costa meno, trasferiamoci a Bangkok. Dove la metropoli incontra i tropici, e tra le luci diventiamo quasi microscopici. Abbasso i finestrini, voglio il vento in faccia. Alza il volume della traccia. Torneremo a casa solo.